La città di Salerno protagonista anche l'ultimo giorno dell'anno con il mega concerto che si terrà in piazza Mendola che vedrà sul palco Antonello Venditti pronto a scaldare dalle 21.30 i cuori di oltre 50.000 persone. Madrina della serata Claudia Gerini che sarà affiancata da Maurizio Foderaro. Ingenti anche le misure di sicurezza richieste dalla Questura per consentire lo svolgimento corretto dell'evento. Tanti i turisti pronti a vivere l'evento e a brindare allo scoccare della mezzanotte sulle note delle più famose canzoni del cantautore romano. Menditti per noi che abbiamo di mezza età e una colonna storica. È stata una piacevole sorpresa ritrovarla a Salerno. Noi sinceramente no. Abbiamo prenotato in un ristorante forse perché non è un artista preferito però veniamo più per l'illuminare per la città. Siamo un gruppo di amici, abbiamo deciso di trascorrere il Capodanno qui a Salerno perché amiamo la città avendoci già vissuto un paio d'anni. Però no, credo di no, anche perché non amiamo particolarmente il tipo di musica. Però ciò non toglie che faremo sicuramente un salto e faremo un giro per la città. Noi veniamo da Bari, ho sentito di gente che arrivava anche da Cuneo. Veramente è un'idea splendida questa, anche se molto semplice. Primo Capodanno qui a Salerno? Sì, è la prima volta. Sì, è la prima volta. Che migliorano di anno in anno perché appunto amando questa città noi se abbiamo modo e tempo torniamo sempre quasi ogni anno. Però visto l'affluenza, si aspettano 50.000 persone, insomma la città sta reggendo.